Su disposizione della Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una ditta erile. Il provvedimento eseguito dai finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania è scaturito al termine delle indagini dopo un controllo edilizio effettuato su un imbobile, il cui proprietario aveva ottenuto il superbonus 110%, richiesto per lavori di ristrutturazione. Le indagini eseguite dalle fiamme gialle e vallesi unitamente al locale reparto carabinieri forestali hanno permesso di accertare difformità ed elizie rispetto alla CILAS, cioè il nuovo titolo abilitativo introdotto dal decreto semplificazioni per snellire le procedure burocratiche per i lavori agevolati, oggetto di richiesta del superbonus presentata al Comune. In particolare veniva constatata l'illegittimità del titolo edilizio, fatto quest'ultimo che per legge preclude la possibilità per qualsiasi cittadino di eccedere ai benefici dell'agevolazione, essendo l'immobile nel caso di specie gravato da abusi edilizi. Per garantire il decupero delle somme indebitamente percepite, la Procura ha emesso un decreto di sequestro preventivo di urgenza del profitto del reato per un importo di oltre 200.000 euro, corrispondente alla quantità dei crediti monetizzati.